Bene, cominciamo anche perché per non separare il caloroso saluto dall'inizio delle parole. Ringraziamo Claudio Rizè per essere tornato qui al meeting, lo abbiamo incontrato lo scorso anno e da quell'incontro accaduto qui a Rimini è seguita una lunga serie di momenti che ha disseminati sul suolo italiano a cui lui si è generosamente prestato per la presentazione del suo libro, il libro editore a San Paolo sul padre e anche per la presentazione spesso del libro, il miracolo dell'ospitalità, quello che raccoglie alcuni interventi di Don Giussani sul tema dell'accoglienza e della famiglia. Claudio Rizè per chi non ne abbia un tratto preciso in mente della sua attività, è uno psicanalista che opera a Milano e nel Trentino e insegna sociologia dei processi culturali e delle comunicazioni nell'università statale dell'Insubria, la zona di Varese, oltre tutta l'attività personale medica e di analisi con numerose persone. Poi autore di numerosi libri, appunto ne abbiamo citati, citato uno, e anche di articoli su mensili e settimanali di grande lettura. Ed è una presenza importante, importante perché ciò che dice si intravede e si legge nella esperienza. Dunque è l'incontro con una persona il cui pensiero, la cui riflessione in questo campo così pieno di teorie, pieno di sentimenti di ciascuno venduti come posizioni generali per tutti e così inflazionato e dove la figura di quello che è l'uomo e di quello che è la sua esperienza, di quello che è anche la sua sofferenza di quello che è il suo disagio, di quello che è il suo tentativo di vivere il desiderio di verità e di significato è così spesso ridotto. Abbiamo dunque un libro, invito alla lettura di questa mattina, che è l'ultimo incontro di questo meeting, è Felicità e donarsi contro la cultura del narcisismo e per la scoperta dell'altro, edito della Sperling e Cuffer, giusto? Sì, Cuffer. Non leggevo nel titolo, della Paper Bake. Lo faremo con qualche domanda di questo incontro con lui. Io volevo solo accennare a due aspetti, molto sinteticamente introducendo questo libro che è bellissimo. Uno che riguarda la attività di Claudio Rizè, che a un certo punto del libro la sintetizza come la necessità di ritrovare e onorare il programma iscritto nella psiche di uomini e donne fin dall'origine della vita, ritrovare il carattere divino delle differenze tra i generi e degli istinti che le attraversano e le animano, garantendo la continuazione della specie. In queste parole, forse non di quotidiano utilizzo, c'è dentro però iscritto una grandissima posizione di fronte alla realtà, la necessità di ritrovare quindi un dato e di onorare, perché questo dato è misteriosamente grande, è unico nell'universo, il dato dell'esperienza dell'io e che è iscritto nella psiche, cioè iscritto in qualcosa di materiale, perché la psiche non è lo spirito, la psiche è qualcosa che fa parte della natura, come l'articolo, come il documento del Cardinal Ratzinger sottolinea come punto di partenza nell'esame della differenza tra uomo e donna recentemente scritto, e poi ritrovare il carattere divino, ritrovare l'aspetto e notare l'aspetto di segno che è questo dato iscritto nella vita di ognuno e che determina le differenze tra i generi, determina le differenze di tutto e così garantire la continuazione della specie, cioè la continuazione di ciò che chiamiamo umano. Quindi il programma di ogni giudizio che io penso Rizè svolga nella sua attività, il suo programma è sempre intero, è sempre grande, è sempre decisivo ciò che si dice, può far continuare, può fare continuare l'esperienza che è proprio dell'umano oppure può interromperla e quindi una grave grande responsabilità. E poi un altro aspetto, prima di dare a lui la parola, bellissimo, quando nel secondo passaggio del libro il sacro fonte del dono parla della devozione. Che cos'è la sacralità? E' essenzialmente qualcosa che va al di là di noi, nei confronti del quale noi possiamo assumere soltanto una posizione di devozione. Ecco, questo atteggiamento percorre tutto il libro e ci richiama quel grande fatto, quel grande richiamo che sempre nella esperienza di molti che aderiscono alla comunione e liberazione hanno sentito, ma che è nella tradizione della Chiesa, questo richiamo al fatto che la persona è costitutivamente un rapporto, tanto che l'amore grande rivelato da Cristo è un'amicizia, un'amicizia tra persone diverse della stessa natura. E questa origine svelata, di cui è incoglibile il significato intero, è l'indicazione reale di quel che è in noi la traccia di questo dono. Ma entriamo in questa parola che è così grande e fa parte sia di ciò che si dà agli altri ma soprattutto credo derivi da ciò che si accetta di ricevere, perché ci troviamo da subito, dai primi momenti della vita inscritti in tutto che già c'è, qualcosa che già c'è. E dunque il tema della libertà, il tema dell'accettare e il tema anche della ragione. Se vuoi come primo momento iniziare a raccontare come è nato e quali passaggi sono contenuti nel libro. Sì, grazie. Grazie mille a voi tutti che siete qui e questo è un grande dono. E grazie a Camillo che ha introdotto questo tema. Ma devo dire che sulla nascita di questo libro ha molto inciso l'esperienza dell'incontro col meeting dell'anno scorso. Voi ricordate che il tema del meeting era c'è un uomo che vuole essere felice, che desidera essere felice. E mi ha molto colpito questa chiara domanda di felicità che ho incontrato tra voi nelle centinaia di persone che mi è capitato di incontrare nei due incontri avuti, nel vostro sguardo, nelle vostre domande e a come risvegliato qualcosa che sentivo ma che non avevo in fondo così ben tematizzato fino all'ora. Questo desiderio richiesta di felicità. Ne avevo parlato, per esempio appunto uno dei miei libri si chiama ho scritto molto sul tema del maschile è dedicato al maschio amante felice e io appunto una delle cose che mi hanno colpito di più nel mio lavoro di psicoanalista inizialmente soprattutto una quindicina d'anni fa era l'infelicità maschile di cui si parlava pochissimo allora nella società di cui gli uomini erano molto inconsapevoli e quindi è stato uno dei primi libri che ho fatto quindi c'era già questa, come dire, intravedere e proporre la possibilità di una felicità. Ma qui con voi ho fatto in qualche modo un'esperienza di immersione nella richiesta, nella domanda della felicità per cui quando sono poi tornato l'ho coniugata con la mia esperienza quotidiana professionale che è un'esperienza naturalmente di assenza di felicità un'esperienza di dolore è un'esperienza di sofferenza in gran parte e riflettendo su questo ho visto che al centro di questo dolore al centro di questa sofferenza e quindi di questa lontananza di una felicità desiderata ma il più delle volte neppure dichiarata e dichiaratasi come possibile c'era una chiusura c'è una chiusura che corrisponde proprio a quello che Camillo accennava poco fa cioè il rifiuto di accettare il dono di tutto quello che già c'è in cui noi veniamo immersi con la nascita con l'infanzia con lo sguardo che gira intorno a noi e che scopre il mondo con gli occhi spalancati di un bambino di cui parla Giussani anche in questo suo ultimo libro del suo libro Perché la Chiesa e questi occhi che mi vengono in mente appunto gli occhi del mio bambino del mio bambino ultimo piccolo quando è nato che si spalancano sul mondo poi nell'esperienza psicologica affettiva tendono a richiudersi noi con tutto questo ricchezza intorno a noi incominciamo a despellerla non la guardiamo più non la sentiamo più e lì ecco accade incomincia a cadere questo dramma umano del chiudersi al dono del chiudersi al dono della vita che è quello che c'è intorno a noi ma anche quello che c'è dentro di noi e appunto quando tu parlavi prima di questo citando un un passo del libro insomma di questo programma divino che ognuno di noi ha dentro di sé ecco questo chiudersi questo rifiuto del dono porta poi in ultima analisi al rifiuto di quel dono cioè del programma della nostra piena realizzazione come esseri umani che passa naturalmente dall'accettare questo sviluppo che è iscritto nella nostra nascita nella nostra umanità e di fronte al quale l'uomo ha contemporaneamente un desiderio che diventa sempre più inconscio appunto questo desiderio di felicità e un sentimento di paura che invece diventa sempre più conscio se io accetto il mondo se io accetto il mio destino se io accetto la mia umanità se io accetto l'incontro con Cristo che mi rappresenta mi fa vivere mi offre tutta questa cosa qua io rischio troppo io rischio troppo e su questo noi abbiamo ed è l'esperienza appunto del nostro tempo che io cerco anche di descrivere in questo rapidamente in questo libretto la costruzione di tutto un modello culturale che ti spiega che tu non puoi e non devi accettare quel dono perché è un dono troppo grande è un dono troppo forte che tu sei un essere debole condannato a un pensiero debole e ha una vita in cui la felicità è impossibile sostanzialmente può essere mimata può essere come dire fabbricata può essere in gadget in relazioni fabbricate in speranze fabbricate ma non ti apparterrà veramente mai abbiamo tutta la cultura contemporanea che ci fracassa le orecchie e il cuore con questa minaccia non pensate di osare di essere felici allora quello che io sono chiamato sono chiamato dall'incontro con l'altro a fare nel mio lavoro di psicoanalista di psicoterapeuta è fargli vedere ciò che la sua psiche appunto la sua natura umana immediatamente per solito ben rapidamente quando la relazione incominciata racconta e cioè che lui può essere felice che lui deve essere felice che si deve prendere questa responsabilità della felicità e che questa felicità è realizzabile prima di tutto attraverso un programma molto semplice un programma iscritto appunto nella sua natura umana biologica di essere maschile o femminile dotato di desideri di istinti di spinte verso il mondo che sono badate delle sacre spinte pulsionali iscritte nell'ordine della natura umana che corrispondono a un ordine simbolico molto preciso cioè non è una biologia impazzita una biologia che non rimanda a nulla è e questo lo si vede benissimo nel lavoro psicologico una espressione del creato che si rivela nell'essere nel suo corpo nei suoi desideri nelle sue spinte che tende a realizzare quell'ordine simbolico che attraverso la creazione si è realizzato e su questo per esempio il patriarca di Venezia che abbiamo ascoltato ieri nel suo libro Uomo Donna il caso serio dell'amore ha parole molto precise ancora prima della della recente lettera di Ratzinger insomma collegando le relazioni tra i sessi a come dire il disegno originario della creazione a cui è legata naturalmente la stessa espressione individuo la sua possibilità di essere felice grazie volevo proseguire chiedendoti questo che forse è una domanda anche che può rappresentare una curiosità per tutti ieri appunto patriarca parlava dell'uomo occidentale dell'uomo europeo come un uomo impagliato citando Elliot nella parte del tuo libro a un certo punto accenni a questo questa chiusura che accade anche nel nel tragitto del 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 giovane no nell'adolescenza c'è una possibilità di chiusura ma c'è questo aspetto della società contemporanea che ha radici non solo recenti evidentemente se puoi tratteggiarvi questo uomo come un uomo che cerca il controllo di sé che è impermeabile viene in mente anche Peggy impermeabili alla grazia la grazia per chi è cristiano è la circostanza perché è questa alterità misteriosa che entra nella tua vita e la libera la libera perché è nel rapporto con essa che viene fuori il tuo desiderio bene l'impermeabilità il controllo di sé se puoi mettere degli aspetti di descrizione di questo uomo bloccato di questo uomo impaurito come in un angolo come iniziata senza fare la relazione lunga con la discora ma e mettere in confronto invece con il perché il dono libera perché accettare il dono libera può certo perché accettare il dono apre apre l'incontro con l'altro e quindi evita quell'impagliatura quello svuotamento del dell'uomo vuoto del dell'uomo di cui parla Elliot e che e che Scolla ricordava ieri ti dà pienezza come tu dicevi prima citando un'altra parte del libro se io mi apro se io accetto il dono degli altri anche il dono di Dio innanzitutto per me che si manifesta fin dall'infanzia fin dall'adolescenza io faccio l'esperienza di una pienezza non sono affatto vuoto non sono affatto impagliato mi muovo su qualcosa che sperimento in profondità nel mio corpo nelle mie relazioni nel mio sguardo verso il mondo e questo mi dà stabilità ma non per star fermo per muovermi quella necessaria stabilità che mi consente appunto di fare un passo dopo l'altro e di tendere verso quella meta che sento e sempre di più vedo iscritta dentro di me se io mi chiudo e mi chiudo naturalmente perché la chiusura e l'aspetto da cui è nato questo libro è tragico è straziante vedere quanto le persone sono asserragliate dentro di sé e chiuse appunto sia verso l'esterno verso l'altro sia verso l'interno sia verso l'ordine simbolico in cui sono inserite e quindi questa chiusura impedisce loro si parla oggi tanto di depressione e da dove viene la depressione ma la depressione viene da questo questo uomo impagliato questo uomo vuoto è un uomo depresso perché non ha relazione con le ricchezze non ha relazione con la totalità e quindi dov'è che può prendere le sue energie può prenderle in un luogo solo la sua testa che è in comunicazione come dire con questo universo culturale cerebrale che è quello della modernità quindi con con tutte queste altre teste pensanti che sono tuttavia profondamente separate dalla realtà dalla realtà umana profonda dalla realtà affettiva dalla realtà delle sofferenze dei desideri e dalla realtà simbolica quindi questo è il vuoto e perché il dono rompe questa economia del vuoto che ha come destinazione fatale la depressione o quell'altra tipica sindrome dell'uomo moderno che è l'euforia l'onipotenza io vado dove voglio perché appunto mi pongo come misura di tutte le cose quindi non c'è una creazione al di fuori di ciò che io creo sono io il creatore e gli siamo la follia appunto io cito per esempio alcuni deliri di scienziati che progettano di sconfiggere la morte tra 20 30 anni 150 a secondo del livello di gravità raggiunto da chi parla però questa questa realtà allora se il dono è ciò che venendo dall'interno e può essere un un'esperienza un incontro io qui appunto racconto dei miei incontri uso me stesso una delle cose abbastanza curiose di questo libro appunto io dico ma gli analisti di solito per spiegare le loro tesi usano dei casi clinici come loro li chiamano e raccontano le storie dei loro pazienti io questa è una cosa che non ho mai fatto in nessun libro che ho scritto perché ritengo che le storie dei miei pazienti appartengono esclusivamente a loro e quindi non lo farò mai non ho mai parlato però per spiegare questo tema ho usato un caso clinico una storia particolare di cui potevo disporre che era la mia sono un caso clinico perché come tutti gli analisti sono stato trattato clinicamente da altri analisti da altri terapisti se no non potevo diventarlo e poi perché ne avevo bisogno naturalmente e quindi mi sono raccontato ho raccontato alcune parti alcuni momenti e in questi momenti che sono tutti poi dei momenti di dono dono ricevuto dono dato in gran parte dato ci sono questi questi doni ricevuti dalla vita appunto la cresima del cardinale schuster a milano che mi che mi trascende che mi emoziona che mi mette a contatto con evidentemente con delle energie molto più grandi di me che che poi mi avrebbero accompagnato di cui sarei stato indegno portatore ma che ci sono state perché le ho colte l'incontro grandissimo di anni dopo con questo grande padre che che voi conoscete benissimo e che è don Giussani con la sfida che mi ha proposto e che mi ha in qualche modo lavorato dentro poi tutta la vita e e questi sono questi sono i doni certo se uno si chiude sia a serraglia dentro dentro questa come dire costruzione fabbricata di 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 un io modellato volta a volta a seconda dei programmi collettivi dei delle richieste di consumo e così via questi doni non li accetta e quindi cade in questa situazione di vuoto di fissità di impossibilità di camminare di immobilità di cui parlava scola ieri oppure nell'euforia di cui ho accennato prima ha messo accennato a questo tratto di autobiografia cioè di racconto in questo libro di alcuni episodi della della sua vita che è uno degli aspetti forse più di tenerezza verso di sé e belli in cui si scrive tutto il resto della riflessione mi viene in mente che a un certo punto si può guardare la propria vita reperendo cioè ritrovando e risè questo lo fa ritrovando come dei punti che hanno comunicato la stessa cosa impressionante come in età diverse perché parla di sé da bambino come ognuno di noi potrebbe parlare al periodo dell'adolescenza alcuni episodi o anche della maturità di oggi quindi in un cambiamento totale di situazioni di mentalità di psicologia cioè tutti le mille fasi della vita di cui i volumoni parlano ma che possono ognuno di noi vede la propria esistenza ritrova sempre la stessa cosa cioè ritrova come l'accettazione l'accoglienza di qualcosa di dato di donato è stato come un punto in cui ha ritrovato se stesso tant'è vero che lo ricorda ed è un punto determinante per leggere la propria vita questo mi ha colpito e tra l'altro c'è il primo bellissimo episodio vi raccontato lo accenno perché spinge a mettersi insomma in comunicazione anche a leggere il libro quando andando su un bastimento di nascosto dai genitori questi marinai andavano a un viaggio in Francia quindi lontano dicendo una bugia ai genitori come tutti noi li abbiamo fatto e i marinai gli dicono ma ragazzo hai mangiato e lui dice sì sì sono a posto invece ha una fame incredibile non ha dietro i soldi e c'è uno il mozzo con le mani sporche di olio che si avvicina e gli dà due mele e lui ricorda questo fatto di averle accettate non poteva non accettarle perché quello lì aveva capito tutto aveva capito la sua situazione umana e quel gesto lo iscrive come esempio di questa apertura è bellissimo perché è talmente banale l'esempio che invece in essa si comunica e si rivela qualcosa di grande voglio entrare per farti un'altra domanda che se mi permetti ti scava forse un po' però forse approfondisce anche questa nostra amicizia che è quella che guardando l'indice parlando del dono dell'adolescenza a un certo punto c'è il sacro fonte del dono e giustamente c'è questo passo perché non è possibile tenere questa apertura da sé e dunque la iscrive in un momento in un rapporto con un mondo più grande con una realtà più grande potremmo dire con un popolo che in quel momento però dei 15 anni o dei 10 anni della cresima come ha raccontato prima e come intuita anzi se ne sente solamente l'esito non se ne capisce nulla di questa realtà e poi l'incontro in scuola con questo prete e qui c'è un passaggio questo prete che non giustamente c'è un passaggio perché questo prete chiede ma voi che cosa vi interessa della vita tu cosa dici tu cosa dici di fronte a quello che io ti sto proponendo e che non è una proposta ma è quella cosa per cui puoi criticare valutare tutte le altre cose perché è un appello alla tua ragione e questa è la parte centrale del libro Erisé dice paragona l'incontro con questa presenza insistente che chiede a te di pronunciarti sulla vita e dice come l'esperienza dell'innamoramento con qualcuno perché senti che rischia di essere una storia per la vita e avaramente ti trattieni e poi dice io quell'incontro con Gesù che vivevo perché l'avevo capito nella fase di quella adolescenza bella aperta quell'incontro con Gesù non lo annunciavo mi ha colpito molto il termine non l'annunciavo cioè non dicevo pubblicamente che quello era il mio tesoro che quella dinamica della lealtà verso l'essere era pubblicamente la mia consistenza mi ha molto colpito perché ha saltato tutti i passaggi ha detto io quell'incontro non l'annunciavo e per cui mi sono tenuto indietro se puoi approfondire questo perché mi pare che anche il sapere che esiste una realtà più grande da cui viene il dono di tutte le cose senza questa decisione personale è come se non ci fosse e forse senza uno che te la urga che te la proponga è come se si rimanesse da soli sì questo è proprio come dire un un punto delicato difficile doloroso della della mia storia anche forse della mia struttura psicologica del mio temperamento perché in realtà appunto ciò che Don Giussani mi ha aiutato assolutamente a capire ecco portare a livello di ragione quello che sentivo affettivamente nel mio incontro con Gesù nel mio incontro eucaristico che vivevo con grande emozione da molti anni da quando ero bambino era proprio come dire questa assoluta particolarità di questo Dio che si fa uomo e diventa tuo fratello e ti chiede di diventare suo fratello figlio del padre questo questo salto diciamo da questa partecipazione fusionale con che avevo prima con il figlio di Dio con Giussani è venuto là dove ho resistito strenuamente è proprio su questo punto dell'annuncio dell'annuncio e qui poi dico che in realtà appunto non volevo chiudere con la mia realtà di ragazzo milanese che voleva godersela e che non voleva sacrificarsi troppo e questa è una parte è quello che scrivo ed è una parte sicuramente vera è stata tratto di vigliaccheria di edonismo di come dire di timore della sofferenza del sacrificio certamente c'è stato questo però c'era anche qualche cos'altro che anche e che può corrispondere al pudore di annunciare una cosa straordinaria e forse in questo naturalmente c'è un sentimento di inadeguatezza come faccio io a pensare di essere capace di annunciare una cosa così è un grande tesoro l'ho capito ce l'ho dentro di me vedo che qualcuno lo annuncia circola ma io forse non sono capace e in questo c'è anche un tratto psicologico mio che è la mia introversione effettivamente io essere qui con voi è una gioia straordinaria è vivere un abbraccio di cui vi sono molto grato ma è anche molto difficile appunto è un'apertura al dono che l'altro ti può dare e che tu quindi puoi essere capace di accettare ma questo alza continuamente il il livello del del salto dello sguardo verso l'altro ma soprattutto dello sguardo verso di te e quindi dell'impegno io dunque posso essere capace di accogliere un annuncio ma soprattutto addirittura di trasmetterlo di riprodurlo come dicevi all'inizio una grande responsabilità ma anche un attribuirsi una forza una capacità che non è semplice che confligge con diverse cose con la riservatezza con l'umiltà l'umiltà profonda quella che forse è sempre sul crinale dell'autosvalutazione della della vita ecco ecco è questo il punto credo reale cioè più profondo al di sotto di questo di questa cosa che è la meno gloriosa che è quella che dico nel libro che è sicuramente vera ma non è tutto e forse interessante appunto perché non non riguarda solo me naturalmente ma riguarda molti altri io lo io vedo anche nel processo analitico quando c'è questo incontro con questo progetto grande che ognuno di noi ha dentro di sé oltre all'aviltà oltre alla nevrosi oltre alle pigrizie oltre agli edonismi c'è anche una sorta di di pudore di riservatezza io come faccio a mettermi a considerarmi all'altezza di questa di questa grande cosa che corrisponde anche alla tua grandezza di te che me lo annunci ecco in Giussani c'era anche questo era un uomo che con assoluta evidenza stava costruendo un mondo partiva per la costruzione di un mondo per la ricostruzione della chiesa e e questo ti faceva sentire anche nella tua assoluta certo ti chiamava se lui ti chiamava vuol dire che qualcosa valevi ma dall'altra parte ti faceva sentire anche nella tua assoluta povertà miseria smarrimento di quindicene milanese concludendo il libro giunge poi anche un aspetto che nella nostra società è preponderante cioè quello della vecchiaia come condizione come situazione umana e poi l'altra grande censura quella della morte puoi fare un accenno su questi aspetti finali del libro e la loro connessione con il titolo felicità e donarsi beh diciamo la rimozione e anzi la la d'amnazio proprio della vecchiaia e della morte corrispondono naturalmente a una società eh che rimuove il dono perché eh secondo questo programma di di consumo in cui eh ci si può scambiare soltanto dei beni evidenti che poi sono i beni fabbricati eh o la bellezza vissuta poi a livello più di delirio che di consapevolezza naturalmente spirituale non parliamone ma anche estetica e il vecchio non serve a nulla il vecchio non serve a nulla a meno che finga di essere giovane infatti eh questa società è stata chiamata in un libro che in un'altra collana ho fatto tradurre di un poeta americano con una intuizione psicologica grossa Robert Bly la società degli eterni adolescenti dove tutti vogliono essere adolescenti e nessuno vuole passare alla fase dopo e questo sia per l'immobilismo dell'uomo vuoto di cui parlavamo prima che non può che stare lì non può sia poi perché passare alla fase successiva vuol dire appunto accettare la dinamica del dono che è anche la dinamica della perdita vuol dire che io devo perdere per esempio la mia adolescenza per accettare i doni della maturità e allora però di questo su questo l'uomo vuoto l'uomo terrorizzato dal modello culturale relativista di una vita fabbricata e prodotta a seconda delle mode non può accettare questa cosa non può correre questo rischio non può accettare il dono della maturità così non può come non può perdere il dono che in realtà ha già perso perché non lo è più dell'adolescenza allora in tutto questo naturalmente là dove il meccanismo si incricca definitivamente già nella maturità in queste maturità che non sono più tali di questi 35 anni io appunto ho questa rubrica sul supplemento del sabato del corriere della sera che si chiama Psiche Lui la pagina della rubrica del supplemento io donna e ci sono tutte queste persone che mi scrivono io sono un ragazzo di 42 anni oppure lei mi parla l'absusproidiano del suo fidanzato che appunto è un ragazzo di 38 eccetera eccetera cioè non si diventa più uomini non si può diventare uomini né donne sono tutte anche loro tutte ragazze naturalmente e questo è una grandissima tragedia perché non solo perché non è vero e quindi in realtà sei un adulto poi sei anche un vecchio e poi vai verso la morte quindi questa è tutta la realtà è la situazione che stai vivendo e se te la racconti in un altro modo sei in un delirio in un delirio sia pur sopportato appunto dal modello culturale dalle pagine del giornale dai tuoi genitori che fingono che che tu sei effettivamente un ragazzo di 44 anni e non ti dicono ma scusa che cosa fai qua insomma cercati un lavoro vai e e quindi supportato da tutto un sistema delirante ma tuttavia delirio rimane ma il il dato particolarmente tragico di questo è che allora questo individuo che vive una una condizione immaginaria non può dare i suoi doni di vecchio di persona che ha vissuto una vita che ha ricevuto un'enorme quantità di cose di cui può parlare però come faccio io soltanto riconoscendo che è un vecchio signore o signora che sono passati decine e decine di anni che lui li ha visti quindi e lì dov'è in una posizione vecchiaia va verso questo grande mistero che è anche una grande meta per certi versi corrisponde anche a un aspetto della meta che è il momento della morte e su tutto questo devi certo interrogarti accettare cogliere i doni del momento che sono che sono grandi che sono possibilità di comunicazione con gli altri che prima non avevi avevi di ne avevi di diversa qualità non non di quella non avevi quello quello sguardo quel lungo sguardo nel tempo che è anche un dono straordinario che la vita ti ha dato e che tu oggi hai la possibilità responsabilità di trasmettere agli altri ecco e naturalmente nel nel momento io quello che quello che dico forse un po come dire sì trasmettendo però quello che io sento è che nel procedere della vita e nell'avvicinamento alla morte la separazione tra la vita e la morte diventa in qualche modo più labile e il mondo di prima il mondo di coloro che sono morti il mondo dei santi per esempio il mondo l'intera esperienza religiosa che prima potevi vivere come un momento di gioia individuale personale di grande intuizione ma poi incominci a viverla anche come una compagnia che ti che ti sta accanto che che ritrovi la mattina la sera quando pensi quando quando preghi quando incontri l'altro che soffre naturalmente lì più che mai non sei sei meno che mai solo ecco questa accettare secondo me questa condizione dell'età avanzata che che in cui incominci a intravedere questo esito della vita io la vivo anche come una ricca compagnia più evidente che mai più evidente che mai che posso trasmettere naturalmente se accetto la condizione in cui sono e invece diventa come purtroppo diventa per moltissimi una terribile minaccia un incubo qualcosa di fronte al quale riesci soltanto a chiudere gli occhi disperato grazie 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 solo due brevissimi spunti conclusivi l'impostazione e le osservazioni costituiscono un punto che resiste un cemento che fa parte di quella radice dell'umano che caratterizza la verità della nostra società e dunque siamo siamo grati al suo tipo di lavoro e anche al suo tipo di presenza pubblica perché queste cose permangono nella loro evidenza e giustezza e verità e c'è bisogno di persone così secondo aspetto più personale è che annunciare quella meta che è Cristo come ha detto il Papa nel messaggio iniziale al meeting significa accogliere nella propria esperienza limitata quindi anche nella propria incapacità un punto di riscossa cioè un punto in cui si realizza una impossibile corrispondenza cioè qualcosa di reale e dunque forse annunciarlo è seguirlo è stare con noi grazie Grazie.